Incidente è avvenuto questa mattina in via Lungogenica in zona Pantano a Pesaro. Il sinistro è avvenuto all'uscita della rotatoria collocata nell'intersezione con via Lubiana lungo la direzione che porta verso la strada Interquartieri. Il conducente 76enne di una Hyundai si stava immettendo sul ramo della strada nella direzione di via Trometta, mentre in quell'istante stava attraversando la strada un ciclista da sinistra a destra rispetto alla direzione dell'automobilista investendo quest'ultimo. Al momento dell'arrivo della pattuglia l'uomo era cosciente e declinava le proprie generalità agli agenti. Le condizioni dell'uomo sono gravi e a causa della perdita di molto sangue è stato trasportato con l'eliambulanza alla torrette di Ancona. La prognosi rimane riservata mentre i veicoli sono stati sottoposti a sequestro e a disposizione dell'autorità giudiziaria.